Tre chilometri di bancarelle e numeri pre-covid per la fiera di San Nicola, uno degli appuntamenti più attesi dai pesaresi ed evento di richiamo per i turisti del centro Italia. Alla base del successo c'è la varietà espositiva pensata per tutti, dall'abbigliamento all'artigianato fino alla gastronomia, un mix tra passato e innovazione che ogni anno si arricchisce di una nuova cornice con animazioni e attività per i bambini. Abbiamo trovato qualcosina, sì dai, abbiamo un gibbottino, una maglia, qualcosa si trova. Ci sono dei buoni prezzi? Sì, ottimi. Voi siete di Pesaro? Nella zona. Anche la giornata di ieri ha fatto il pieno di visitatori sin dal mattino, infatti le forti piogge e il vento che si sono abbattuti per meno di un'ora non hanno scoraggiato le migliaia di persone che hanno affollato il lungomare. Sul fronte sicurezza è stato fondamentale il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine. La nostra postazione all'interno della fiera Viale Trieste-Angolo Zara è appunto un punto di riferimento ma è un punto cruciale dal punto di vista tecnico perché è sede del COC ed è punto d'incontro di tutte le forze di polizia che iniziano il servizio da qui e poi lo riterminano qui in modo da creare il coordinamento necessario in questi grandi eventi. Come sono andati questi giorni? Allora la fiera è iniziata ieri quindi siamo esattamente più o meno a metà. È andata bene, non abbiamo avuto problemi di venditori abusivi che era un problema degli anni precedenti. Il nostro COC qui insomma la nostra postazione ha supportato ed aiutato dei bambini che si sono persi ieri pomeriggio per cui insomma è stato un servizio utile. Soddisfatti anche gli ambulanti nonostante i rincari del posteggio con aumenti della tariffa che vanno dai 25 ai 50 euro. La gente di Pesaro è tanto soddisfatta anche da essi complimenti perché noi abbiamo tutta la produzione nostra a livello di Casareccio, anche le salcicce che stiamo cuocendo. Siamo soddisfatti, benissima, buona fiera, siamo tanto contenti. Di dov'è lei? Sono del Marocco, vengo da provincia di Pesaro diciamo. Quest'anno la fiera, il sabato c'era poca gente diciamo, poco affare. Le cose vanno un po' così e così. Non è come le altre anni era meglio diciamo. Diciamo che vediamo una leggera ripresa fortunatamente, nonostante i costi alti che oggi giorno ci sono dappertutto e affliggono un po' tutto quanto la gente, però la risposta alle fiere è stata importante. Qual è il prodotto che vendete di più? Quest'anno abbiamo portato delle grandi novità, principalmente delle verdure disidratate che sono essiccate e ne vendiamo tantissime. È un prodotto molto apprezzato dai nostri clienti. È un prodotto naturale, biologico, al 100% diventa idrorepellente all'acqua quando lo usi, tipo sulle vasche da bagno, vetro d'orci, sanitari. Comunque ti faccio vedere, quando lo usi fa una schiuma e non rovina la pelle. Rubinetterie, vasche da bagno, gli fai un paio di passate per rendere la protezione al 100% idrorepellente all'acqua. Guarda quando risciacquo con l'acqua, questa è proprio la novità della fiera. Diventa idrorepellente. Prova a passare il dito e è asciutto. Fai una prova? È asciutto. Poi se eventualmente hai delle pianicolture incrostate, induzione, vetro ceramica, fra granite, si va a tamponare il prodotto lasciandolo agire qualche secondo senza usare spugne abrasive, usiamo solo quelle morbide. Nel frattempo se abbiamo qualche metallo, acciaio, argento, ottone, andiamo a tamponare il prodotto, viene fuori l'ossido del metallo, lo risciacquo con l'acqua e l'acqua si stacca perché diventa idrorepellente. La prova del 9, quella che diciamo sciocca un po' tutti, è la facilità e la rapidità con cui vado a pulire e genizzare un piano cultura in acciaio, induzione o vetro, vado a risciacquare con il grosso della spugnetta e asciugando non ti crea loni in casa. Lava e lucida senza loni. Direttamente non faccio fatica. Dunque la fiera è tornata tra conferme e novità, un'occasione per fare un pieno di acquisti, buon cibo e divertimento. Una colonnina, questa mi piace. La trovata a buon prezzo? Sì, sì. Viene tradizionalmente alla fiera di Pesaro o la prima volta? No, vengo sempre, sono qui di Pesaro quindi... Abbiamo trovato un sacco di cose carine, anche i prezzi sono abbastanza accessibili e adesso continueremo il nostro giro. Sull'abbigliamento oppure cose per la casa? Sull'abbigliamento, noi cerchiamo l'abbigliamento. A poco prezzo ma che faccia la propria figura. Qualcosa di specifico? No, da comprare. Però i prezzi sono buoni, quindi abbordabili. Si fa una passeggiata anche per stare insieme, è molto carino sempre. Siamo a caccia del banco a cui siamo affezionati? E quale? Relativo all'abbigliamento? Sì, sì, abbigliamento. Facciamo un giretto. Un paio di scarpe, sì. L'ha trovato a buon prezzo? Sì, ottimo. 30 euro, quindi sono molto contenta. Un paio di scarpe di pelle, da eleganti, da ragazzo, sono molto contenta. Mi piace molto che tutti gli anni vengo, sto bene. La fiera di San Nicola è memorabile, che io da piccolina sono sempre venuta. e passo la mezza giornata guardando le bancarelle e quello che c'è, insomma. Ti stavo interessando le scarpe? Sono carine? Sì, molto, molto. Pensi di acquistarle oppure ritorneranno? Adesso ne provo un paio e poi decido. Sì, anche se comunque ho visto i prezzi più o meno, sono come i negozi comunque. Sì, anche se comunque.